Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa settantasettesima puntata del podcast di Marcos Box. Apriamo questa puntata parlando di rinnovo. Qualche mese fa vi avevo parlato dell'annuncio di rinnovo relativo all'imminente commercializzazione di portatili della serie ThinkPad equipaggiati con Linux, nello specifico con Ubuntu LTS e Red Hat Enterprise Linux. Beh, rinnovo è stata di parola e ha iniziato la commercializzazione del suo nuovo ThinkPad X1 Carbon di ottava generazione, equipaggiato con Fedora. Attualmente la configurazione con Fedora è disponibile soltanto sullo store americano. Si spera che in futuro possa arrivare anche sul suo ritalico. Io ho provato a contattare rinnovo per avere maggiori informazioni al riguardo, ma l'addetto che mi sono ritrovato presente in chat è stato molto impreparato e direi anche confuso al riguardo e non mi ha saputo dare maggiori informazioni in merito. La cosa comunque positiva è che questa configurazione dell'X1 Carbon di ottava generazione è comunque compatibile con Linux, quindi andrete comunque tranquilli nel caso vogliate acquistare la versione con Windows per piagarlo e metterci sulla vostra distro preferita. Questa settimana c'è stato il rilascio di Blender 2.90, la nuova versione dell'Arcinoto, oramai soft libero multipiattaforma di modellazione, rigging, animazione, montaggio video, composizione e rendering di immagini tridimensionali e bidimensionali. Praticamente a momenti ci fate anche il caffè con Blender. Questa nuova versione porta con sé diverse funzionalità e miglioramenti delle prestazioni e per approfondire vi rimando al posto su Marcosbox dove trovate maggiori dettagli, trovate anche un video esemplificativo dove vi illustrano tutte le novità di questa nuova versione. Blender, che dire, è uno dei software che mi affascina di più e mi sono ripromesso di studiarlo per bene nei prossimi mesi, visto che è un ottimo strumento anche per quanto riguarda l'architettura. Passiamo adesso ad una notizia non connessa al mondo del software libero ma che potrà interessare a molti di voi. sull'account ufficiale GitHub del Dipartimento della Protezione Civile sono stati pubblicati i verbali del comitato tecnico-scientifico che il governo italiano ha istituito per coordinare l'emergenza Covid-19. Andategli a dare un'occhiata se vi va, non sono comunque completi, se sono degli omissi, se sapete come è andata la vicenda di questi verbali, ma è comunque già qualcosa. Per la serie applicazioni utili dove trovare, questa settimana ho dedicato un piccolo articolo riguardo a Video Downloader, che è un altro non è che un front-end grafico per YouTube Download, che ci consente di scaricare video e musica da YouTube, ma anche da altri fondi e... ...non ho il Covid, ma ci siamo capiti con le altre fonti. Bene, il programma è semplice da utilizzare ed installabile su qualsiasi distribuzione grazie ai pacchetti in formato Frat Pack e Snap. Io l'ho provato su Linux Mint e funziona, funziona da Dio. Quindi, poche impostazioni, ma buone, è un buon default ed è ottimo sia per gli utenti e le prime armi, ma anche per gli utenti un po' più navigati che vogliono qualcosa di semplice e immediato. Sì, queste cose si possono fare con YouTube da God, da riga di comando, ma avere un'interfaccia grafica aiuta e piace. Passiamo adesso al mondo delle distribuzioni. Il team di Linux Mint ha annunciato di stare lavorando con una nuova applicazione chiamata Web App Manager. Si tratta di una piccola ma utile applicazione, basata sulla tecnologia ICE di Paper Mint, che consente di trasformare i nostri siti web preferiti in applicazioni autonome. L'idea è buona e l'inclusione di Linux Mint non farà altro che rendere la distro ancora più completa. Per maggiori dettagli riguardo al suo funzionamento vi rimando all'articolo dedicato che trovate sul blog, dove potete trovare anche una serie di screenshot e un link al pacchetto DEB che potete installare su Linux Mint 20, in modo da poterlo testare. Infine, sempre prestato in casa Mint, ho postato un articolo dove vi mostro come sono riuscito finalmente, sottolineo finalmente, lo sottolineo migavolt, a dare un aspetto accattivante alla mia installazione di Linux Mint 20 edizione Cinnamon. Finalmente, dopo tanto sperimentare, sono riuscito a trovare un setup che mi appiega perfettamente e che mi porterò dietro per diverso tempo, anche perché immagino che il team di Linux Mint non riuscirà mai a decidersi a portare un tema decente sulla propria distro. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ma soprattutto lasciate un commento se siete di quegli utenti a cui piace il look di Linux Mint, così come viene rilasciato dalla casa madre, e davvero veramente, sono curioso di sapere se c'è veramente qualcuno di voi a cui piace la paghetta di colori di Linux Mint, ma soprattutto qualcuno a cui piace il set di icone predefinito Linux Mint, che è, oh, io non so, io proprio lo trovo orrendo. Beh, per oggi è davvero tutto, lunga vita, prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con un nuovo episodio del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!